Senti Gigi, abbiamo oggi omaggiato Mario Merola. Grande Mario. È stato molto importante all'inizio della tua carriera, ti abbiamo visto qua. Per me è stato come un padre. Io poi ho iniziato come pianista di Mario. Ti assicuro che Mario forse era uno dei cantanti più difficili da accompagnare a pianoforte. Perché lui entrava, usciva nel tempo perché lui interpretava. E ogni giorno era un'interpretazione diversa. Una persona simpaticissima. Mario credo che nella vita ha dovuto interpretare, nella vita normale, quello che gli hanno fatto fare nei film. Perché Mario faceva questi film come Mamma Santissima. Veniva sempre catalogato come un guappo. Invece non era così. Mario era proprio la mollica del panno. Era un pezzo di Mario. Era proprio la mollica del panno. Era buonissimo. Era buonissimo, era una persona eccezionale. Io ci ho lavorato tanto, ci sono tanti bei ricordi con lui. Ricordo una volta in America, sai in America gli impresari mettono sempre, quando c'è un concerto di uno, mettono sempre un altro per fare concorrenza. Quella volta c'era Mario e Lucio Dalla. Un metro di neve fuori al teatro, a un certo punto una fila enorme fuori al concerto di Mario e da Dalla non andò nessuno. Arriva a un certo punto Lucio Dalla e dice, senti Mario, da me non è arrivato nessuno, mi sono venuto a vedere il tuo spettacolo. Bellissimo. È stata una cosa bellissima. Ma anche Lucio ne parlava sempre di Mario Merola. Sai, Mario vedi, una volta ha salvato con il film Zappatore un teatro che stava chiudendo in Canada, a Toronto. Questo arrivò qui, si comprò la famosa pizza del film Zappatore, lo mise in onda ed è stato Zappatore otto mesi, otto mesi al cinema, in programmazione. Dopodiché poi Mario arrivò con la famosa sceneggiata, stette tre mesi, tutti i giorni, tutti i giorni dopo il spettacolo. Vedi, tante cose la gente non le sa, per esempio, come dicevi tu, era il re della sceneggiata, che è una particolare forma di rappresentazione proprio di Napoli. Io purtroppo non ho mai assistito a una sceneggiata. Mi ricordo che una volta sono andato a vedere uno spettacolo meraviglioso del grande Vittorio Marsiglia, sto parlando di tanto tempo fa, che faceva uno spettacolo che si chiamava Isso, Issa e Umala Me. Is, Es, Umala Me. Oddio, scusa, c'hai ragione. Lui, lei e il cattivo. Eh già, perché, allora, Isso, Essa e Umala Me. Isso, Essa e Umala Me. Esatto. Scusa, eh. No, no, no. Non hai fatto bene, mi devi sempre riprendere. Magari parlassi io italiano come tu parli Napoli. Ma, ma, ma. Allora, dicevo che ci hanno fatto morire perché era una parodia, naturalmente, però ci faceva capire come era la sceneggiata, facendoci ridere. Avevo scoperto che, per esempio, il pubblico interagiva con gli attori. Il pubblico fa parte dello spettacolo perché il pubblico si interviene. Si interviene, hacirele, ha fatto buon, hacirele, hacirele. E poi quando quello fa qualcosa che non va, loro si fischiano. Si, si incazzano. Esatto, per cui interagiscono, è meraviglioso. Guarda, la sceneggiata napoletana, nemmeno io, ahimè, ho avuto modo di viverla. Ero troppo piccolo, però ovviamente a Napoli, sai, Napoli è una sceneggiata continua, ogni cosa. Però è una sceneggiata simpatica. Quindi queste erano comunque storie di vita quotidiane. E devo dire che il pubblico, credimi, il pubblico impazziva, impazziva. E tu ti creavi dei nemici. Cioè se l'attore, quello cattivo, era cattivo per tutta la vita, anche quando scendeva dal palco. E quando scendeva dal palco. Sì, quando scendeva dal palco. Viglio in droga. Lo odiavano, lo odiavano. Un'altra cosa bella che mi ricordo di Mario Merola, che un giorno andammo a suonare, a fare un concerto, e lui mi disse, Gigi, sto, anzi, Vermici, lui mi chiamava Vermici, perché era molto magro. Invece adesso sono ingrassato. Adesso è parecchio. Però eri più magro, in realtà era ancora più magro. E mi disse, Vermici, oggi non sto tanto buono, capoce. Quindi, casomai, vedi tu. Vabbè, ricette. Disse, Mario, allora, innamorate te, che è una canzone che cantava lui, dico, la facciamo in la minura o in si bemolle. Lui mi guardò e disse, esatto. Basta! Cioè, praticamente, lui fondamentalmente la musica non la conosceva, non la conosceva, però era un'autodidatta, era una persona che cantava così. Era musicale? Era musicale, era musicale, ma soprattutto sapeva, cioè, tu lo vedi, io guardi, io suonavo con lui, lui quando cantava i figli, una canzone che si chiama i figli, la famosa frase, i figli su piezzi i cori. Ah, viene da lui. E in questa canzone, dice, signore, i figli sai che sono su piezzi i cori. Questa è rimasta nel lessico nostro. Esatto, nel nostro lessico. Io te lo giuro, io ci ho suonato almeno 200 volte, 300 volte, io piangevo tutte le volte che lui cantava questa canzone. Ma pensa tu. Lui diceva che il mantello, quando doveva cantare Zappaduro, il mantello e la zappa, lui diceva, adengo qua, non c'era bisogno. Ma pensa tu. E poi una volta ci hanno fermato i carabinieri, dopo un concerto, c'era proprio un blocco tutta l'autostrada a Bari, erano le tre di notte, io ero il suo pianista, ci fermano, io scendo dalla macchina, documento, patente, me all'orchestra, a tutti quanti. E il poliziotto disse, ma perché l'amico vostro non scende dalla macchina? E gli dice, andatela a dire, andatela a mano, perché la macchina la guidavo sempre io con Mario. Lui mi mette la pila in faccia, sai, vicino al vetro, e fa documenti. Mario, che dormiva sempre in macchina, si alza, lo guarda e fa, fa così. Il poliziotto, uè, con me Mario! E' finita, è finita da Luce e Vinso. Vabbè, è stato un bel periodo della tua vita. Per me è stato come un padre. Ma anche una scuola, perché poi chi comincia... È stata una scuola perché lui era veramente grande, ma proprio grande, 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 grande. Ma era umile. Per me mi ha insegnato, ha insegnato veramente a me tanto... Diciamo che mi sono preso solo i pregi di Mario, perché il po' di difetto donivo, giocava. Però era un amore, era un amore. Tant'è che sta nella mia tumba di famiglia. Infatti non osavo chiedertelo perché non volevo entrare nella tua intimità. No, ma perché sono geloso di tenerlo con me, capito? Per cui però me l'avevi detto e aspettavo che lo dicessi tu perché non mi sembrava carino. Ma il fatto che tu l'abbia messo nella tua tumba di famiglia ti fa... Insomma, la dice lunga di quanto tu lo amassi. Per cui basta, io che altro ti devo dire. Ti ringrazio di essere stato qua e di aver dato questa testimonianza. Sai che c'è? Che quando io vengo accandata a te prendo i punti. Capite? È come quando vai al supermercato che ti danno i punti. Va, cammina. Perché tu, capite? Sei un prodotto top.